bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le notizie delle ultime 24 ore di fortnite le trovate in questa manciata di minuti l'ultimo video news l'ho fatto uscire ieri nelle prime ore della serata ma oggi ci sono tante novità a partire dal backpack che poi in realtà è un jetpack di iron man vi faccio vedere quello che si è scoperto nelle ultime ore parleremo anche delle nuove icon series quindi due nuove stelle del dello streaming che arrivano su fortnite parleremo anche di tanti tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta come vi anticipavo sempre di lui ragazzi toni iron man chiamatelo un pochettino come vi pare che ha avuto davvero un grande impatto su questa stagione 4 del capitolo 2 non è ancora finita la sua missione in questa season perché come vi avevo già parlato appunto nell'ultimo video il suo jetpack sembrerebbe che sia utilizzabile e appunto arriva una nuova immagine che ci conferma quanto detto l'immagine è proprio questa come vedete ragazzi è un'icona che dovrebbe apparire se utilizziamo gli effetti visivi a schermo quelli che sono per i non udenti l'icona ci mostra come capite un player che sta utilizzando il jetpack e quindi è molto probabile a questo punto che sia vera la notizia che sarà possibile utilizzare questo nuovo jetpack non vedo l'ora di vederla per adesso non ci sono altre informazioni quindi aspettiamo di vedere qualcosa andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché notizie anche su quanto riguarda il nuovo estintore non vi spiego neanche più a che cosa serve è un estintore niente di più niente di meno abbiamo visto le ultime notizie anche ieri ma forse arriverà in concomitanza con un nuovo potere di cui già avevamo parlato ed è ragazzi la fire starter quindi una palla di fuoco che non sappiamo dove verrà collocata o a chi verrà collocata potrebbe essere un un easter egg per quello che riguarda ghost rider anche perché il fuoco ci starebbe bene e abbiamo visto che molto probabilmente molto probabilmente vedremo anche l'arrivo di ghost rider magari non in questa season vi ricordo sempre che donald donald mustard ha detto nell'intervista di sabato scorso che la collaborazione di epi games con marvel potrebbe durare anni non per forza con gli eroi che abbiamo visto in questa season ce ne sono tanti altri goblin verde ghost rider eccetera eccetera tra l'altro perché va in associato alla palla di fuoco l'estintore perché non vi spaventate per questa schermata gialla per chi ha voglia di dare un'occhiata alle parti che sono evidenziate come vedete fluids smoke fire oppure compute 2d light oppure down sample scalar sono tutte delle variabili o chiamatele un po come volete che vanno sono degli effetti che potrebbero essere generati da questa palla di fuoco e il che vorrebbe dire che magari dando fuoco noi con l'estintore poi subito potremmo intervenire quindi tante notizie anche per questo qualche piccolo sneak peek chiamata un po come vi pare anche qua non aspetto altro che degli aggiornamenti andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo è davvero invece interessante due nuove icone dello streaming due nuovi creatore che poi tanto nuovi non sono forse per noi in italia non sono così conosciuti entrano a far parte del set icon series tutto iniziato con ninja ovviamente seguito dall'oser fruit e come vedete la terza icona è di lancelan la quarta icona invece è di greg potete già andare anche nella pagina ufficiale di fortnite alla sezione notizie e leggerete questo articolo l'aclan l'aclan entra a far parte della serie icone innanzitutto chi cavolo è l'aclan è questo qua ragazzi il ragazzone con capelli sparati a canonau di sardegna verso l'alto e il il testo dice è il momento di annunciare il prossimo creatore che si unirà alla serie icone il divertente l'aclan arriva con un appassionante torneo in cui potete vincere il suo set completo della serie icone in anticipo sulla pubblicazione nel negozio il 13 novembre alla ora una italiana non abbiamo ragazzi assolutamente nessuna immagine per quello che riguarda la skin di l'aclan questo potrebbe però anche voler dire una cosa importante sappiamo che c'è un bandolo ancora criptato nell'ultima pace ma non è detto che sia il suo potrebbe voler dire appunto l'uscita della patch prima del primo novembre mi sembra un po strano mi sembra un po strano però a questo punto tutto potrebbe essere possibile magari fanno un update dell'ultimo momento o semplicemente la skin è nascosta e non ce la vogliono far vedere il testo continua dicendo il giorno del torneo potrete guardare l'aclan competere nella sua diretta streaming e dare il primo sguardo al costume dorso decorativo emot e piccone continuate a seguirci per maggiori dettagli sui tempi di questo torneo unico nel suo genere l'aclan è il terzo creatore ad unirsi alla serie icone della community di fortnite dopo gli streamer ninja e loser fruits il prossimo entrare nella serie sarà il creatore spagnolo the gregg the gregg è questo ragazzotto qua anche lui ragazzi forse un po distante dalle nostre conoscenze anche un po come l'aclan tutti sappiamo chi è però magari non abbiamo mai visto un suo streaming abbiamo invece qualcosa di interessante per quanto riguarda the gregg perché lui direttamente sul suo tik tok ha un po spoilerizzato la sua skin la prima immagine è questa qui ragazzi come vedete sembrerebbe proprio lui quella skin ci assomiglia davvero tantissimo quel disegno non è un caso dicono che ci sia anche l'action figure di dragon ball perché potrebbe avere qualche riferimento lui deve essere tipo un appassionato e poi fa vedere un'altra immagine questo è più un riflesso in realtà che come vedete mostra come sarà la parte sotto come saranno i piedi questa è la sua è una parte della sua camera da streaming e quindi scopriamo anche qualche dettaglio in più insomma ragazzi io anche per questo video news ho terminato vi ringrazio tanto per averlo guardato ma mi raccomando non dimenticate un bel pollicione in su iscrivetevi i miei canali e a me mi trovate alle 8 in live su twitch ciao 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 ciao